Un incontro dedicato agli amministratori locali per fare sintesi sull'attività svolta nell'ambito del progetto di promozione territoriale Visit Nuorese e pianificare le azioni di sviluppo della destinazione Sardinia Eastland. L'ho promosso per la giornata di lunedì 20 luglio alle 11 nella sala del Consiglio Provinciale, la provincia di Nuoro. All'iniziativa interverranno i componenti della cabina di regia del progetto, l'amministratore straordinario della provincia Costantino Tidu, l'assessore regionale al turismo Giannichessa, ma anche il sindaco di Nuoro Andrea Sodio, il presidente della cabina di commercio Agostino Cicalò e il destination manager responsabile del team tecnico di progetto Andrea Succi. Il nostro obiettivo, sottolinea l'amministratore della provincia Tidu, è organizzare un'offerta qualificata di ospitalità finché possa contribuire ad attrarre più turisti nel territorio, implementare il volume d'affari delle imprese e quindi migliorare la qualità della vita delle persone che ci abitano. In questo frangente, sottolinea Tidu, l'interapparato economico e in particolar modo il comparto turistico sta subendo un duro colpo, pertanto il nostro dovere è pensare a come riorganizzare le fila e metterci nel limite delle nostre possibilità a disposizione dei soggetti economici che operano in questo segmento affinché questo momento di difficoltà possa essere superato quanto prima. Lo scopo del progetto Visite Nuorese, se legge una nota, è quello di costituire una destinazione turistica globale nei territori del Nuorese e dell'Ogliastra, denominati per l'occasione Sardinia Island, integrando l'offerta dei servizi pubblici e privati e implementando il grado di friabilità fisica e digitale degli attrattori, anche mediante la costruzione di un portale dedicato entro il quale ricevere supporto, informazioni e prenotare la propria vacanza nel territorio 24 ore su 24 o 7 giorni su 7.